Galleria chiusa, non si sa neanche quando riaprirà, è solo un attacco d'ottimismo che ci fa pensare che per San Vito forse il problema sarà risolto, invece i tempi non si conoscono ancora. Intanto però i disagi ricadono soprattutto sul comune di Omegna, Sindaco. Sì, tra l'altro è il periodo forse peggiore per la chiusura della galleria perché essendo iniziata la stagione turistica abbiamo un afflusso di auto che si aggiunge a quello dei residenti. Quindi abbiamo già verificato in città questo effetto e quindi il principale danno è a carico della città di Omegna, di questa chiusura. Hai detto con una battuta che ci sentiamo un po' partelesa insomma anche. La città di Omegna è sicuramente la unica principale partelesa, poi è chiaro la viabilità del lago d'Orta in generale, però l'afflusso di auto che adesso sono all'interno di questa città è un vero e grosso problema. Quindi quello che a me preoccupa è che adesso ci si deve muovere velocemente per trovare i fondi e per fare l'appalto dei lavori. Se no la galleria rischia di restare chiusa a tempo indeterminato. Un grave pregiudizio anche per esempio nel caso, in occasione della festa di San Vito, quando sappiamo che la galleria è insomma un po' lo snodo attraverso il quale poi eventualmente anche in caso di emergenza si può uscire. Assolutamente sì, ma oltre a San Vito ci sono a luglio, ad agosto, a domenia una serie di manifestazioni importanti dal Giro Rosa al Paglioremiero ad altre che faranno affluire tanta gente in città. Quindi nell'uscire avremo dei grossi problemi. Come intende muoversi adesso, a parte quello che lei ci ha appena detto, con questo appello diciamo un po' alla provincia e alle istituzioni per cercare un po' di arrivare a definire tutta la questione? Ma in primis io ho già contattato il senatore Montani affinché o con la regione o con l'ANAS si possa muoversi il più velocemente possibile. Poi per quel che mi riguarda io sono disponibile ad andare a trovare chiunque, dal presidente della regione al ministro delle infrastrutture e trasporti. Quindi mi muoverò con le mie conoscenze, con le mie possibilità per far sì che ci sia la massima velocità nell'individuare fondi e fare i lavori. Noi stiamo valutando l'ipotesi di chiedere alla provincia di liberare lo svincolo che c'è della Galleria alle Brughiere. Questo permetterebbe di alleggerire il traffico alla famosa rotonda all'ingresso della città di Omegna. Però in questo caso, per esempio, questa deviazione, chiamiamola così, un po' questo scamotage, insomma possiamo dire, avrebbe praticamente un costo pari a zero, insomma, se tratterebbe semplicemente di mettere qualche cartello con indicare da che parte andare. Sì, sì, no, di solo mettere un cartello, di vietare i mezzi pesanti di proseguire sulla strada, il costo sarebbe completamente zero. Cioè l'unica cosa risolverebbe un po' il problema nel traffico alla rotonda di ingresso della città.